Torre Guaceto è un'area a maniera protetta, è una riserva naturale dello Stato, quindi un'elevata naturalità caratterizza questo territorio. Territorio però da sempre vissuto dall'uomo, 1400 anni fa qui si pescava e si coltivava già la dite e l'olio. La sfida è quella di tutelare questi ambienti naturali ma permettere uno sviluppo sostenibile, soprattutto le attività di pesca, agricoltura e un turismo attento alle emergenze naturali. Lo possiamo fare attraverso un'attività di monitoraggio costante degli habitat e delle specie con le quali verifichiamo un eventuale impatto sulle aree protette.